Anticipazioni Beautiful, clamoroso, Hope non è figlia biologica di Deacon ma di, benvenuti nel nostro canale. In questo video di anticipazioni delle puntate americane di Beautiful vi riveleremo un fatto incredibile che i fan si possono aspettare nei prossimi mesi punto, i fan si stanno preparando per dare il benvenuto al ritorno di un personaggio amato, Stephen Logan. Stephen Logan tornerà a Los Angeles e ci porterà molte storie interessanti. Questo accade abbastanza spesso quando un personaggio fa il suo ritorno, poiché cambierà molte trame. Qual è lo scopo reale del ritorno di Stephen a Los Angeles questa volta? Ci sono due motivazioni. La prima è che Stephen vuole partecipare al matrimonio di donna. Sono molto vicini, quindi è ovvio che sarà presente al suo matrimonio. La seconda motivazione è perché Stephen vuole confortare Brooke, che è molto triste dopo la rottura con Ridge. Ma l'arrivo di Stephen porterà anche delle sorprese. Confesserà a Brooke un fatto inaspettato che è stato nascosto per decenni e, naturalmente, ha a che fare con l'identità di Hop. In realtà, Brooke dovrebbe sentirsi anche in colpa per questo, perché in passato ha avuto rapporti sessuali con troppe persone e non sapeva chi fosse il padre di Hop. In quel periodo, Brooke ha fatto sesso con tre uomini, Whip Jones, Deacon e Ridge. Dopo la nascita, Hop è stata sottoposta a un test del DNA per determinare la sua identità, ma Stephen, perché odia Ridge, ha modificato il risultato, facendo diventare Hop la figlia di Deacon. In realtà, infatti, Hop è la figlia di Ridge. Stephen ha compiuto azioni non etiche a causa dell'odio personale e dovrebbe sentirsi dispiaciuto per aver mentito a tutti per tutto questo tempo. Tutti pensavano che Hop fosse la figlia di Deacon. Deacon ha sempre trattato Hop molto bene. Mentray Ridge non sa che la sua figlia è così vicina a lui. Molte volte Stephen ha voluto confessare la verità, ma non ha avuto mai il coraggio. Sapeva che era sbagliato, ma non voleva essere odiato dai suoi figli e deluderli. Ora Stephen ha radunato tutto il coraggio e ha confessato a Brooke. Naturalmente, Brooke non si aspettava che ciò le accadesse. Ora che il fatto è diventato pubblico, renderà sicuramente le cose molto complicate. Forse Stephen ha intuito che avrebbe dovuto dire prima a Brooke in modo che potesse trovare la soluzione giusta. Ma cosa può fare Brooke adesso? Ha chiaramente capito che Ridge e Hop sono stati i primi a sapere di questa verità. Oltre a Deacon, Brooke rivelerà la verità a Ridge. Ovviamente non può nascondere questo fatto per sempre. Tutti i personaggi coinvolti meritano di conoscere la verità, ma ciò comporterà molte conseguenze. Alla fine, quale scelta farà Brooke?